Non si può vivere più così, veramente, dai, stiamo scherzando, ci sono persone veramente che fanno la fame, mo' 12 mesi, tis, e basta, e poi che facciamo? Ce ne andiamo tutti a casa. Io non parlo tanto per me perché ho 62 anni e quanto prima andrò in pensione, ma c'è gente veramente a 40 anni che non può più andare avanti così, padri di famiglia, madri di famiglia che hanno 3 o 4 bambini a casa, ma la regione Calabria si rende conto di questo? No, non si è mai resta conto di questo, perché vedo che adesso ha fatto il bando per i tis, 12 mesi e poi perché non hanno rispettato l'accordo quadro del 7-12-2016? Quando si sono riuniti e ci hanno venduto come carne da macello, ci hanno venduto tutti quanti, non l'hanno rispettato, e noi però il 26 se ne devono andare tutti a casa, tutti a zappare, tutti quanti, perché questo governo non lo vogliamo più, ci ha stancato, ci ha stancato veramente, abbiamo portato pure le tessere elettorali, io non la voglio più la tessere elettorale, perché non ho chi mi rappresenta, né in Italia né in Calabria, da nessuna parte, e io le tessere elettorali lascerò qua per sempre, e mi devono, proprio non devo andare più a votare. Circa 200 ex percettori di mobilità in deroga tirocinanti negli enti pubblici e privati stanno tenendo un sit-in di protesta davanti alla sede della regione a Catanzaro per chiedere certezze sul loro futuro occupazionale. La protesta in particolare è rivolta contro la trasformazione della loro situazione in tirocini di inclusione sociale che hanno spiegato i manifestanti, dopo 12 mesi ci faranno diventare tutti disoccupati. Inoltre hanno poi aggiunti i manifestanti contesti ai pagamenti ogni tre mesi di questi tirocini, mentre noi rimedichiamo il pagamento mensile considerando che si tratta di fondi europei. Si insiede il sindaco nelle città e dice la casa comunale è la casa del cittadino, e va bene. Si insiede il nostro presidente e ci dice che la casa della cittadella è la casa del cittadino. Guardate un po', sono tutti barricati. Voi vi pensate, vi credete che noi siamo il cittadino che possiamo entrare così facilmente? Se era così, come diceva il presidente, che la cittadella era la casa del cittadino, non sarebbe chiusa così? Ecco, è tutta barricata, inquadrate tutti i poliziotti che ci sono. Praticamente no, la regione Calabria con i sindacati non hanno rispettato l'accordo quadro dell'anno 2016, quindi noi da ex percettori di mobilità in deroga siamo andati a finire a ex disoccupati percettori di mobilità in deroga. Hanno fatto una grandissima discriminazione per noi. Noi diciamo una cosa, che noi non siamo tirocinanti di Serie B, noi vogliamo quello che hanno avuto gli altri tirocinanti, Mibac, Miurro e Ufficio Giudiziario, hanno avuto il perfezionamento, perché l'accordo quadro, che cosa diceva? Che dovevamo fare la formazione, dovevamo fare il perfezionamento e poi essere inseriti nel mondo del lavoro. Invece adesso ci hanno buttati in un bacino di disoccupati. Siamo qui ancora una volta per questo problema, per noi comuni è fondamentale, importante, tutto quello che gli ex ammortizzatori sociali, che ancora oggi sono precari e non riescono a trovare una sistemazione definitiva per i servizi. Noi senza servizio e con i problemi che abbiamo con gli equilibri di bilancio, con i tagli da parte del governo, eccetera, eccetera, sarebbe lungo il discorso, siamo veramente alla frutta. Purtroppo anche in questi giorni, con tutti i problemi che ci sono legati al clima, al maltempo e così via, stiamo avendo grosse difficoltà. Per noi sono una grande risorsa, sono persone che realmente hanno dato un grande aiuto e io penso che questo bando si deve in qualche modo rimodulare, ripedere per dare la possibilità a loro di avere un percorso tranquillo, sereno e arrivare finalmente alla fine del precariato. Allora, io personalmente lavoravo in un'azienda del settore del fotovoltaico a Roma ed ero a un livello quadro di questa azienda. Perdo il lavoro insieme ai miei colleghi e veniamo introdotti nella mobilità inderoga. In questa mobilità inderoga faceva parte del 2012 delle politiche passive e quindi iniziamo a percepire quell'indennità di mobilità che ci permetteva di andare avanti come un traghetto alla ricerca di una nuova occupazione. Purtroppo la Regione non offre grandi opportunità e quindi ci ritroviamo in questo bacino. Il 7 dicembre del 2016 la Cigelle e Cisleguille insieme alla Regione firmano un accordo quadro che prevede lo spostamento, secondo legge Poletti, delle politiche da passive a politiche attive. Perché anche se la misura passa come politica attiva, ma questa indicata per noi è una politica di sostegno al reddito. Noi veniamo parificati al reddito di cittadinanza che pur essendo una misura valida per chi ne ha necessità, ma ci sono molti di noi che non hanno la necessità del sostegno, hanno la necessità del reinserimento lavorativo e quindi vogliamo avere il nostro percorso, vogliamo avere il perfezionamento, vogliamo avere il riconoscimento delle nostre professionalità, anche perché qualcuno avrà visto anche il servizio di qualche giorno su Striscia e sono dieci anni che facciamo tirocini negli enti, noi siamo del 2012, c'è gente che c'è dal 2007. Se avessero ascoltato quelle che sono minoranze come la nostra, che però rappresentano comunque un migliaio di tirocinanti, probabilmente avrebbero anche ricevuto delle informazioni atte a comprendere qual è il fabbisogno reale di queste persone, che non è avere solo le 500 euro, perché se no ognuno avrebbe potuto provvedere diversamente. 500 euro ogni tre mesi sono veramente, veramente poco.